Quest'anno, dal primo al 12 giugno, l'Europride si celebra a Roma. Il fatto che la comunità GLBT di tutta Europa abbia scelto la capitale italiana per incontrarsi è secondo me una scelta molto significativa. L'Italia infatti è l'unico paese d'Europa dove parole come matrimonio o adozione, che in Europa sono la normalità per le persone GLBT, qui sembrano delle chimere lontanissime, dei sogni irraggiungibili. Allora io spero che l'arrivo di tante persone dal resto d'Europa e anche l'appoggio di tanti nostri concittadini possa aiutarci a rendere questo obiettivo più irraggiungibile, l'obiettivo della piena uguaglianza, che è l'unica cosa che ci interessa e l'unica cosa di cui dobbiamo parlare. So I really want to welcome all the people who will be coming to Rome this year in June for Europe Pride 2011. We really need to have you next to us, close to us, in our struggle for rights, struggle for equality, which is something you have achieved in most of your countries abroad, but we still are not enjoying here in Italy. Vi aspetto dunque dall'Italia e dall'Europa per Europe Pride 2011. a Roma dal 1 al 12 giugno.